Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale di Pippo Quarto. Siamo giunti di nuovo al Giro di Boa, un fine settimana che spero ci regalerà qualcosa sulla nostra amata emittente TV, anche perché domani dovrebbe arrivare Silvia Cavalca, mentre della Baldo non si hanno ancora notizie. Vi anticipo che ho registrato anche Chiara contufarci un paio di giorni fa. Non che mi faccia impazzire, però ha diversi estimatori tra i nostri amici, e un paio di loro mi chiesero di caricare del materiale nel caso se ne fosse presentata l'occasione. Ma ciancio alle bande, visto che in questo video avremo una donna bella, fine elegante e di gran classe. Al momento so solo che si chiama Sabrina Vigolo, è sposata e mi pare abbia due figli, poi non sappiamo più nulla, quindi dobbiamo immaginare cosa possa essere accaduto nella sua vita giusto per divertirci un po'. In questa ora di trasmissione si sono registrati attimi di nervosismo tra la biondazza in studio e alcune telespettatrici perché la signora ha detto che le ama vivere nel lusso e che soprattutto non ama indossare abiti negobelliccia. E tanto è bastato per far scatenare l'ira delle animaliste che le hanno inviato alcuni messaggi davvero pesanti, come ammette anche lei in diretta. Questo è uno dei tanti messaggi che ci arrivano. Però alla biondazza frega nulla, ed infatti stuzzica le telespettatrici a casa dicendo alla bella Sabrina che una sua amica sta indossando un abito meraviglioso, precisamente una pelliccia, e continua a provocare. Ed anzi invita anche quante ne fossero interessate a contattarla perché è un capo che sta bene con tutti. Te la provi, te la guardi, magari chiedi anche alla figlia. Ma può andar bene anche per un certo tipo di marito. E che cosa? Quest'ultima affermazione lascia perplessa la bella Sabrina, ma la risposta della biondazza arriva all'istante dicendole che non è una novità, ma anzi ci sono sempre stati. E aggiunge altresì che anche lei ha avuto un'esperienza in tal senso. La Cristina. Però la bella ed affascinante Sabrina tiene a ribadire quale sia il suo partito, la sua preferenza. Di pesce. E tecnicamente cerca anche di spiegare i suoi vantaggi. Fatto che ti arriva direttamente a Specifica anche che ha dei gusti diversi, nel senso che punta sempre su Nero. Poiché dice che Vi fa sognare. Insomma pare proprio che la nostra bella Sabrina non abbia dubbi, e lo ribadisce. Andate sul sicuro. Ma qualcuno non è d'accordo. E la signora Mara E dopo l'intervento dell'immensa Mara la trasmissione può anche concludersi qui, con i saluti delle due belle signore. Grazie Anna. Grazie Sabrina. E grazie a te. Ma come da consuetudine il video non può terminare senza la solita e immancabile puntualizzazione. Allora noi andiamo a fanku. Ragazzuoli belli anche questo video sta volgendo al termine e spero vi sia piaciuto. Grazie mille della visione e arrivederci al prossimo appuntamento, sperando di ritrovarci con la meravigliosa Silvia Cavalca.